musica musica va a decidere quel patto essenziale di Pietro Francesca ho bisogno del tuo aiuto uccidi Pietro voglio che sia ucciso si capo infiltrarmi nella banda di quel delinquente? ok ispettore salverò il nostro uomo sia tranquillo ispettore la missione è difficile però ce la farò obiettivo agganciato chiudo a 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 che facciamo a 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